A Lecco i lavori socialmente utili si svolgono a fianco dei disabili adulti. È stata approvata negli scorsi giorni una convenzione fra il Tribunale e l'amministrazione comunale cittadina per consentire lo svolgimento delle attività non retribuite a favore della società nell'ambito della casa, orizzonte e struttura di accoglienza per disabili con sede nel quartiere di Castello. Chi dunque ha ottenuto dalla giustizia la possibilità di commutare la propria pena detentiva o pecuniaria con attività non retribuite a favore della collettività, a Lecco aiuterà i diversamente abili ospiti della struttura gestita dalla cooperativa La Vecchia Quercia. Come recita la convenzione, i lavoratori socialmente utili saranno impiegati non solo nella manutenzione degli spazi verdi della comunità di accoglienza ma anche nella condivisione di momenti lavorativi, ricreativi e di socializzazione con gli utenti e operatori della comunità. Quanti verranno autorizzati a convertire la propria pena? Inoltre potranno essere impiegati nell'accompagnamento e assistenza nell'ambito dei trasporti effettuati quotidianamente per e con gli ospiti. Infine nella partecipazione ad attività di prevenzione serale con l'equipe dell'unità mobile dell'associazione nell'ambito di eventi promossi sul territorio. Non i soliti lavori a favore della collettività ma un vero e proprio percorso di sensibilizzazione a fianco di quanti vivono quotidianamente una condizione di disagio. E' con orgoglio che abbiamo sottoscritto questa convenzione con il Tribunale commenta l'assessore ai servizi sociali del Comune di Recco Riccardo Mariani consapevoli di contribuire così a un percorso di educazione che sia davvero utile per la società e per chi lo segue. Stando a quanto stabilito dall'accordo quanti vorranno usufruire dell'opportunità non potranno essere impiegati più di due contemporaneamente nella Casa Orizzonte.